L'anteprima del nostro telegiornale in primo piano la situazione del liceo Buchner con la Presidente del Consiglio d'Istituto che ha scritto al Sindaco Manfredi dopo le lamentele di alcuni ragazzi del liceo che si sono ritrovati in aule senza termosifoni in queste giornate molto rigide. Vedremo come si evolverà questa vicenda. La giornata della memoria con le celebrazioni oggi all'interno del palazzo della prefettura di Napoli con sette reduci che hanno ricevuto una medaglia d'oro dal prefetto Palomba. Ad Ischia al Tribunale la presentazione degli avvocati della lista Liberi e Coesi che sono candidati al rinnovo del Consiglio appunto degli avvocati di Napoli per quello che riguarda lo sport in programma. Il derby delle isole tra l'Istia Calcio e il Givova Anacapri si gioca al San Costanzo domani pomeriggio. Sentiremo le parole di Enrico Buonocore ma di questo e tanto altro. Come sempre parleremo dopo la pubblicità. Sull'isola di Ischia per l'accoglienza di qualità Cala degli Aragonesi. La Cala degli Aragonesi è la prododa di porto per vivere la vacanza a mare tra comfort e tranquillità. L'efficienza dei servizi, la comodità della struttura, la professionalità del personale, gli alti standard tecnologici, l'attenta sorveglianza, il rispetto della privacy ti accolgono in un 5 stelle del mare. Tanti ed esclusivi servizi sia in banchina sia sul territorio per risposte precise alle tue esigenze. Sull'isola di Ischia nel porto di Casamicciola Terme Cala degli Aragonesi. L'accoglienza a mare a 5 stelle. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetom Sempramagnete. L'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla. Ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore. particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova Moc Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala, 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad. Medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle. Tutti i comfort. Quattro piscine, palestra, camere e residence con arreddamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di L'Acqua a meno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli. Per una serata speciale. Per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche. Tra il cielo e il mare. Trattati da re. Ora puoi. Il jolly re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo. Oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati. A prezzi eccezionali. Jolly re Ferdinando Spa. Trattati da re. Pubblicità media in service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962. Nuove idee per l'isola di Ischia. Ischia, studenti al freddo. De Vanna scrive al sindaco Manfredi. Di disagi nei pressi del liceo Buchner. Immediata la presa di posizione della presidente del consiglio d'istituto. Giornata della memoria. Celebrazione in prefettura a Napoli. L'evento questa mattina con la consegna delle medaglie d'oro a sette cittadini della provincia. Deportati e internati nei lager. Ischia al tribunale. I candidati di Liberi e Coesi. L'incontro con gli avvocati isolani oggi in vista delle prossime elezioni del 30 gennaio per il rinnovo del consiglio degli avvocati di Napoli. Eccellenza domani a Capri il derby delle isole. L'ischiacalcio in cerca dei tre punti al San Costanzo. Massiccia presenza dei tifosi dell'ischia. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Teleischia. I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno effettuato un controllo antidroga a largo raggio sul territorio tra la costiera sorrentina e l'isola di Capri. Durante le diverse perquisizioni effettuate ad Anacapri i militari hanno rimeduto e sequestrato 16 grammi di marijuana. La droga all'interno di una bussa era nascosta in un appezzamento di terreno a via Migliara. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale stazione per individuare i responsabili. E con le rigide temperature invernali gli ultimi giorni gli studenti del liceo statale Giorgio Buchner sono stati costretti a frequentare le lezioni in aule sprovviste di impianti di riscaldamento. Fanno fronte al freddo indossando durante le lezioni sciarpe e cappelli e persino dei plaid. Molte aule nei pressi scolastici di Ischia e Lacquamena hanno problemi con gli impianti di riscaldamento e sono sprovviste di condizionatori o termosifoni. A richiedere una soluzione concreta e immediata ai disagi degli studenti e del personale scolastico è stata Maria Rosaria Devanna che in qualità di presidente del Consiglio d'Istituto del liceo ha inviato una missiva alle istituzioni dal titolo ben chiaro e deciso di fida a ripristinare ad Orsi il funzionamento dei sistemi di riscaldamento degli edifici scolastici del liceo statale Giorgio Buchner di Ischia. C'è scritto in calce. La missiva è stata inviata al sindaco della città metropolitana Gaetano Manfredi a vari uffici della provincia, al dirigente scolastico Assunta Barbieri e all'ufficio scolastico regionale della Campania. E parliamo della giornata della memoria. Questa mattina alle 11 presso il Palazzo di Governo di Napoli il prefetto Claudio Palomba ha consegnato delle medaglie d'onore alla memoria dei familiari di sette cittadini della provincia di Napoli deportati e internati nei lager nazisti. Vediamo. Eccellenza, è una giornata particolarmente importante. Sempre importante la giornata della memoria. Oggi che c'è anche un conflitto in Europa diventa ancora più importante dare un segnale di pace. Ma sì, è una giornata importante e anche commovente. Abbiamo voluto le testimonianze soprattutto dei parenti che ci hanno portato appunto il loro passato nel presente e nel futuro. Il messaggio, l'ho detto inizialmente, il messaggio fondamentale è soprattutto verso i ragazzi e verso i giovani perché la memoria deve essere presente e futuro. E quindi abbiamo voluto la partecipazione nelle scuole e l'allargheremo sempre di più. Quanto è importante appunto la scuola e l'università per formare e ricordare? È fondamentale. Il primo messaggio arriva proprio dalla scuola. Quindi l'ampliamento alle scuole e ai ragazzi in particolare anche con questo supporto musicale è stato veramente bello e interessante. Questo è un anno particolare, ricordano anche gli 80 anni delle quattro giornate. Esatto. Siamo a 80 anni e è stato evocato più volte diciamo lo spirito democratico della città di Napoli. ai valori della libertà e dell'eguaglianza. È più che importante, è fondamentale, è veramente l'unica nostra carta per un futuro. Posso dire che con piacere, andando in giro per le scuole in questa occasione, noto il grande lavoro che stanno facendo sia i docenti che i discenti, perché non è per nulla facile, come ho già detto in altre occasioni, risvegliare oppure suscitare l'interesse dei giovani al giorno d'oggi. Forse è il compito più difficile in questo mondo così informatizzato in cui viviamo, in cui tutto già è confezionato e pronto da essere mangiato e digerito. Portare avanti, perpetuare il ricordo di ciò che è stato, il ricordo della Shoah, non deve essere un esercizio morto, deve essere un esercizio vivo e ciò richiede sforzo, impegno, effettivamente è importante il peso che c'è sulle spalle dei giovani di oggi. E la giornata della memoria è stato il tema anche della nuova puntata della trasmissione di Teleischia a linea di confine, personaggi e storie a cura di Anna Lamonaca con la storia di Giobatta Cricco raccontata dal giovane nipote ischitano Giovanni Cricco che ha raccontato la storia del suo bisnonno, vittima dell'olocausto, ad un solo giorno dalla liberazione. È andata in onda in anteprima alle 18.30, la trasmissione che tornerà in onda alle 21.10, circa dopo il telegiornale, ma intanto seguiamone questo passaggio. Perché è così importante ricordare che c'è stato un olocausto? È estremamente importante il giorno della memoria, anche se io penso che dovremmo ricordare tutti i giorni, però il giorno della memoria ovviamente è stato istituito proprio per questo motivo qua, per ricordare le sofferenze che sono avvenute e i abomini che sono accaduti. Perché? Liliana Segre, ultimamente in una sua intervista, ha espresso la sua paura che non sarà più ricordata questa tragedia, che nei libri di storia resterà solo un rigo. Sì, questa era la paura anche di mio nonno, come ho detto all'inizio, ed è la paura di tanti ex deportati o di parenti. Talmente c'era la sofferenza alle spalle che queste storie non sono state raccontate da tutti i deportati o da tutti i parenti deportati. Molti hanno vissuto la propria sofferenza tenendosa per sé e quindi molte storie sono andate dimenticate. Anche quella di mio nonno rischiava di essere completamente dimenticata e quella del mio bisnonno. Perciò la memoria è importante ed è importante ricordare queste persone perché loro, i parenti, diciamo prossimi come i figli non hanno avuto in molti casi la forza di portare avanti il ricordo e la memoria. Perché è importante ricordarli? Perché come avete potuto vedere l'uomo non impara da quello che ha commesso e dagli errori che ha commesso e dagli abomini che ha commesso e continua a commetterne di altri. Il sindaco di Lacquamero ha nominato il nuovo assessore a seguito della revoca della nomina del dottor Jacinto Calisi avvenuta con decreto del 17 giugno 2022. Rientra in giunta un personaggio storico della politica lacchese Ciro Calise che gestirà le delega all'estetica cittadina ambiente e nettezza urbana pubblica illuminazione politiche cimiteriali. La giunta di Lacquamero risulta quindi composta dal sindaco Giacomo Pascale poi il vice sindaco Carla Tufano gli assessori Giovanni Zavota Ciro Calise e Leonardo Mennella. Un filmato per comunicare i sentimenti degli isolani sull'alluvione del 26 novembre scorso a realizzarlo a due mesi dalla tragedia un collettivo di artisti capitanato da Leonardo Bilardi che ha interpretato una poesia di Valentino Federico vediamo. A due mesi dalla tragedia del 26 novembre 2022 dalla frana che ha cambiato per sempre il volto di Casa Micciola Terme un filmato è stato realizzato e pubblicato su Youtube ripreso da tanti quotidiani canali televisivi per sensibilizzare l'opinione pubblica la cittadinanza su quanto accaduto. L'intento era più che altro quello di comunicare cioè è partito tutto con la volontà di comunicare di comunicare lo stato d'animo che molti di noi abbiamo percepito e nelle parole del testo di Valentino Federico diciamo io personalmente e credo e spero anche molti altri si sono ritrovati e quindi abbiamo ritenuto opportuno creare un team per celebrare queste parole e soprattutto per ricordarci di una cosa brutta ma soprattutto provare a far vedere come l'abbiamo vissuta noi ischitani. Avete voluto realizzare un monumento in video per cercare di lasciare all'interno di un filmato le emozioni che un evento del genere può scatenare? Sì è veramente emotivo è proprio quello quello è l'obiettivo e quello è il punto da cui parte Valentino dice un progetto che nasce dal cuore fa un giro di menti per poi ritornare al cuore penso che questa sia la sintesi perfetta di questo progetto mi auguro che arrivi arrivi il messaggio la volontà un po' di riscatto che abbiamo una volontà di riscatto che abbiamo e un po' anche per cercare di rendere partecipi gli spettatori al nostro dramma ci sono dei ringraziamenti da fare ce ne saranno tantissimi citiamone qualcuno ce ne sono tantissimi vorrei partire velocemente con Valerio Sgarra perché diciamo è stato lui a propormi a Valentino quando Valentino ha avuto la prima idea ovviamente Valentino Federico come autore e come diciamo capogruppo di tutta la situazione Luca Ricci il videomaker che si è occupato delle riprese della fotografia Salvatore Vitale della musica insieme anche accompagnato da Angelo Ricci come consulenza c'è anche Giuseppe Iacono con il quale ci siamo confrontati spesso proprio per capire quali potevano essere le intenzioni migliori da un punto di vista video e poi ce n'è uno speciale che vorrei fare ad Anna Buonincontri che è una send artist che avrete modo di apprezzare nel video chiudiamo però con il titolo di questo lavoro il titolo è D'In Danutat il testo è di Valentino Federico interpretato è la parte video diretta da me con le musiche di Salvatore Vitale le riprese la fotografia di Luca Ricci una collaborazione con Valerio Sgarra Angelo Ricci senza ovviamente dimenticare il comune di Laccameno con Giacomo Pascale il vice sindaco Carla Tufano la deputata Carmela Monti e Titta Iasevoli del museo di Villa Arbusto che ci hanno concesso di realizzare queste riprese all'interno proprio del museo e dopo il telegiornale vedremo un servizio con il filmato proprio di cui parlavamo con Leonardo Bilardi il prossimo 30 gennaio intanto si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli questa mattina presso la sede del tribunale di Ischia si è tenuto un incontro con i candidati della lista liberi e coesi vediamo con l'avvocato Carmine Foreste qui al tribunale di Ischia per le elezioni al consiglio dell'ordine di Napoli la lista liberi e coesi si presenta si presenta ancora quali gli obiettivi? gli obiettivi sono quelli di iniziare subito al lavoro con la prossima consigliatura con un gruppo appunto libero e coeso sono due principi che noi facciamo come punti di riferimento del nostro modo di approcciare all'istituzione a quello che sarà il prossimo consiglio appunto perché riteniamo che dovrà essere proprio un nuovo metodo a caratterizzare la gestione dell'ente che sicuramente viene da un passato recente non troppo sereno e proprio questa mancanza di serenità è dovuto appunto dalla necessità di superare vecchie logiche che hanno caratterizzato in questi anni l'avvocatura partenopea da un punto di vista di gestione dell'ente tante le criticità che riguardano il settore della giustizia sull'isola di Ischia a partire proprio dalla dalla struttura del tribunale sempre appesa ad un filo immagino che di questo si sia parlato nell'assemblea con gli avvocati questa mattina ma anche di altri problemi che interessano la categoria assolutamente come dicevo prima il principio del cambiamento del metodo appunto volta alla necessità di acquisire dare maggiore autorevolezza all'ente perché l'ente sia appunto un punto di riferimento per la comunità eschitana per la giustizia isolana affinché ci sia un miglioramento ad oggi c'è uno stato sicuramente da un punto di vista storico quanto più basso possibile da un punto di vista dell'efficienza della giustizia qui sull'isola è necessario che l'ente l'istituzione il consiglio si interfacci con maggiore autorevolezza con quelli che sono gli organi istituzionali deputati all'amministrazione da un punto di vista burocratico della giustizia stessa affinché anche con la comunità politica affinché il tribunale di Ischia riceva la meritata stabilizzazione riceva una pianta organica vista appunto come organizzata attraverso un approccio di efficienza e efficientamento del tribunale non come un qualcosa da dover essere visto come un luogo da non far funzionare con chissà quale logiche politiche alle spalle è importante per noi che anche il tribunale di Ischia e quindi i nostri colleghi si sentano parte di un gruppo coeso che sia appunto quello degli avvocati napoletani e non solo si sentano messi da parte soltanto per problemi legati ai trasporti siamo un tutt'uno e gli avvocati devono ritrovare in questa unione in questa lista la possibilità di ritrovarsi e di essere coesi sia come avvocati che come professionisti purtroppo ho constatato che ci si ricorda dell'isola di Ischia e dei problemi legati al tribunale solo nelle occasioni elettorali invece secondo me il nuovo consiglio deve mettere in cima alla lista delle cose da fare affrontare le problematiche del tribunale di Ischia che non deve essere più visto dalla magistratura come una sede punitiva ma deve assolutamente essere messo in grado di funzionare Ad essere state battezzate città capitali italiane della cultura per il 2023 sono le Lombarde Bergamo e Brescia che hanno ereditato il titolo dopo il passaggio di consegne da Procida vincitrice della nomina per il 2022 Nelle 2024 sarà la città marchigiana di Pesaro a rivestire il ruolo di capitale italiana della cultura intanto sono già state annunciate le 10 città finaliste per l'attribuzione del premio di capitale italiana della cultura del 2025 queste le 10 finaliste annunciate Agrigento Aosta Assisi Asti Bagnoreggio Monte Sant'Angelo Orvieto Pescina Roccasecca e Spoleto La scuola non si tocca lo aveva detto l'assessore regionale Lucia Fortini lo ribadisce il presidente della Campania Vincenzo De Luca che annuncia una manifestazione per protestare contro le decisioni di un governo sempre più orientato ad accorpare istituti riducendo le autonomie scolastiche sentiamo La Campania si prepara a scendere in campo a difesa delle autonomie scolastiche parte al governatore Vincenzo De Luca l'idea di una manifestazione che ricalchi in grandi linee la marcia per la pace in Ucraina organizzata lo scorso ottobre l'obiettivo stavolta è difendere la scuola pubblica da scelta del governo che il presidente della regione definisce irresponsabili e immotivate per De Luca le autonomie non vanno ridotte perché accorpare istituti scolastici significherebbe aumentare il numero degli alunni nelle classi e ridurre il personale nel medio periodo in Italia la spesa nazionale devono esserci ma non possono riguardare la scuola l'aveva detto l'assessore regionale Fortini lo ribadisce il numero uno di Palazzo Santa Lucia che si prepara ad organizzare la mobilitazione stiamo preparando una manifestazione relativa alla programmazione scolastica e delle autonomie scolastiche abbiamo detto la scorsa settimana che le previsioni del governo nazionale vanno in direzione di una riduzione di istituti di un aumento della popolazione studentesca nelle classi e alla fine le scelte del governo vanno verso una riduzione del personale scolastico faremo degli incontri con il mondo della scuola con i docenti con il personale con le famiglie stiamo preparando una manifestazione importante nel giro di poche settimane anche qui a difesa della scuola pubblica che è fortemente in discussione domani sabato 28 gennaio alle 9.30 presso la biblioteca diocesana di piazza Duomo ad Acerra si terrà un importante incontro tra Monsignor Antonio Di Donna presidente della conferenza episcopale campana nonché vescovo di Acerra e gli operatori dell'informazione promosso dall'Unione Stampa Cattolica Italiana in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti e l'Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Acerra al centro dell'incontro il dibattito in merito alla sfida della comunicazione e alle nuove frontiere della deontologia professionale tema conduttore sarà il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della comunicazione e andiamo a dare un'occhiata anche al bollettino covid relativo ad oggi 27 gennaio 361 nuovi contagi su 7126 test eseguiti un uomo deceduto nelle ultime 48 ore 3 invece i deceduti in precedenza ma registrati solo ieri in Campania sono 17 i pazienti covid che sono ricoverati nelle parti di terapia intensiva mentre sono 288 i pazienti covid ricoverati nei reparti ordinari ed ora la pagina dello sport con l'importante sfida di domani per l'ischiacalcio contro il Givova Capri Anacapri prevista al San Costanzo alle 14.30 i derby sono sempre molto complicati dichiara Enrico Buonocore servirà tanta determinazione per portare il risultato a casa detto in conferenza stampa l'allenatore gialloblu sentiamo quanto riguarda la partita è un derby è stato sempre molto difficile all'andata abbiamo fatto il 2-0 a un quarto alla fine abbiamo rischiato anche di due volte che ci potessero pareggiare non è facile una squadra ha dei buoni giocatori e quindi sarà una partita per noi molto difficile da prendere con le molle nel senso che noi dobbiamo partire con grande intensità dare ritmo giocare veloce fare meglio di domenica scorsa come a livello di qualità di gioco abbiamo solo Franco che è Brienza che ha ancora questo problema dietro la gamba e poi il resto è ritornato dall'influenza e quindi l'unico che in questo momento è out è lui è gemito il portiere è gemito credo che non può essere più come gli anni quando ci ho giocato io è anche normale è un po' di più di gente quando c'erano in casa non l'aspettavo poi poi adesso il fatto che ci sono si fa vedere la diretta su teleischia su telenuvola quindi adesso la gente quando il pomeriggio sta a casa se non c'è il coniglio e dopo fa fatica ad alzarsi quindi sa che chi la vuole vedere la può vedere per televisione rimane a casa quindi è un po' diverso prima venivano al mazzello oppure la partita dovevano vedere la sera quando la rifacevano insomma per televisione noi siamo una squadra che dobbiamo essere sempre molto aggressivi dobbiamo correre in avanti e dopo giocare di qualità però il pregio di questa squadra è il fatto di correre di muovere la palla di correre veloce di andare a recuperarla più velocemente possibile la palla e se delle volte ci può anche stare però quando capita questa cosa qua bisogna lavorare non sul fatto neanche quando ci alleniamo ma proprio sulla testa dei giocatori perché anche come giochiamo noi non è mai facile tenere sempre per 90 minuti di questo tipo di atteggiamento non è mai facile quindi e poi il fatto che noi è veramente forse tanti giocatori è la prima volta che giocano questo tipo di calcio negli altri anni era un pochettino più diverso il fatto di come si muovevano in campo e quindi all'inizio specialmente non è stato facile e sarà un fine settimana all'insegna della scherma al Palavesuvio di Ponticelli che ospiterà le gare di Fioretto del circuito europeo Cadetti nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento a Palazzo San Giacomo dall'olimpionico Sandro Cuomo arriva anche una grande proposta candidare la città di Napoli per gli europei under 23 del 2026 il servizio la grande scherma torna a far tappa a Napoli domani e domenica sulle pedane del Palavesuvio di Ponticelli andrà in scena la gara internazionale di Fioretto maschile e femminile del circuito europeo Cadetti ad affrontarsi a colpi distoccate saranno quasi in 400 tra ragazze e ragazzi della categoria under 17 che si sfideranno seguendo la formula classica la stessa delle Olimpiadi un girone di qualificazione prima delle gare ad eliminazione diretta che porteranno gli atleti fino alla finale per l'olimpionico Sandro Cuomo organizzatore della Kermess la soddisfazione di aver riportato a Napoli la scherma internazionale che mancava all'allontano 2012 il circuito europeo Cadetti è una gara riservata agli under 17 che però noi facciamo in maniera così strutturata soltanto in Europa per questo motivo vengono da tutti gli altri continenti infatti abbiamo 40 americani gente che viene dall'Equador da Singapore veramente da tutto il mondo brasiliani e proprio perché nei loro continenti non trovano questa offerta sportiva in Europa questo circuito è stato ideato dal sottoscritto quando ero nella Confederazione Europea nel 2004 e ha preso sempre più piede fino a diventare uno degli appuntamenti più ambiti dal circuito internazionale di scherma sono presenti 31 paesi e 393 atleti tra maschile e femminile 222 soltanto nella prova maschile quindi una partecipazione particolarmente corposa che dà merito diciamo ai nostri sforzi organizzativi perché poi questo è un evento che abbiamo preso un po' in corsa quindi organizzato veramente in estremi se ne ha anche il tempo di cercare qualche sponsorizzazione devo dire che abbiamo avuto la massima collaborazione del Comune di Napoli anche il patrocino della regione della città metropolitana ma certo prepararci l'anno prossimo con un anno di anticipo per lo stesso evento abbiamo strappato un po' la promessa al Presidente della Confederazione Europea di mantenere questo evento qui e quindi se organizzarlo con un anno di respiro sicuramente è tutta un'altra cosa nel corso della conferenza stampa di presentazione del circuito cadetti la presenza di istituzioni civili e sportive come approfitta è la vetrina per lanciare anche una nuova proposta la candidatura di Napoli per ospitare gli europei under 23 del 2026 abbiamo in questa sede strappato un impegno sia al Presidente Nazionale Azzi che al Presidente della Confederazione Europea Giorgio Scarso a caldeggiare diciamo una nostra candidatura come Napoli per l'europeo del 2026 europeo under 23 e quindi ci abbiamo appena finito non abbiamo ancora finito di lavorare su questo evento che già si prospetta un altro lavoro intenso per presentare la candidatura a giugno sull'europeo under 23 quindi siamo molto contenti di riportare Napoli al centro dell'Europa ed ora vediamo insieme il meteo della Regione Campania previsioni per domani al mattino sulle coste schiarite alternate a nubi sparse in montagna schiarite alternate a nubi sparse nel pomeriggio sulle coste nubi e schiarite con possibili piovaschi in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita e dunque questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale vi ricordo che subito dopo di noi andrà in onda il cortometraggio realizzato con il testo della poesia di Valentino Federico d'Inda Anottata dedicato all'alluvione di Casa Micciola con la regia di Leonardo Bilardi che ha anche interpretato poi la poesia ha curato la parte la parte video vi invito ovviamente a vederlo subito dopo il telegiornale dopo di che ci sarà la replica di Linea di Confine con la storia di Giobatta Cricco in una giornata speciale come oggi 27 gennaio dal 2005 la giornata della memoria detto ciò vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata e vi ringrazio